Una fitta camere con annessa piantagione di marijuana scoperta sorprendente della Guardia di Finanza di Verbagna sulle alture di Trare Govigiona. L'indagine è partita da una verifica tributaria su un verbanese già noto alle forze dell'ordine che risultava host su un noto sito specializzato per la ricerca di alloggi o camere per vacanze. Lo stesso percepiva il reddito di cittadinanza dal 2020 e dal 2021 risultava titolare di una partita IVA per attività di coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili ma dall'incrocio delle banche dati cui hanno accesso le fiamme gialle non risultava nessuna attività commerciale propria di un'attività imprenditoriale. Ottenute le autorizzazioni dalla procura i finanzieri sono quindi andati sul posto per una verifica fiscale. In una stanza al piano terra c'erano oltre 100 trapiante e fascine di cime di cannabis in fase di essicazione. I finanzieri hanno chiesto allora il supporto dei colleghi della sezione aerea di Varese che hanno individuato in un'area poco distante dalla casa un terreno sul quale crescevano altre 55 piante in fase di maturazione. Dalle analisi sui campioni sono emerse punte di THC superiori al 20 per cento. In casa c'erano anche una macchina per il sottovuoto, sacchetti di plastica, un bilancino di precisione e marijuana pronta per il consumo. Non sono stati trovati macchinari per il trattamento o lavorazione a finitessili, cosmetici alimentari della cannabis o documenti che mostravano la sua appartenenza alla filiera produttiva artigianale o industriale di questo prodotto. Sono stati sequestrati 107 chili lordi di piante per un totale di 161 piante che avrebbero reso circa 20 chili di marijuana vendibile sul mercato. L'uomo è stato arrestato.